Era una pacifica manifestazione di protesta quella che ad Atene ha portato in piazza diverse migliaia di anziani uniti contro i tagli alle pensioni. Quando il corteo è arrivato in prossimità della sede del governo e un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il blocco della polizia, gli agenti hanno fatto uso di gas irritanti fino a disperdere la manifestazione. Immediato il mea culpa dell'esecutivo che attraverso il Ministero per la protezione dei cittadini ha emesso il divieto di utilizzo di gas contro lavoratori pensionati.